Stavo per perdere la fede. Quando lei vi dice che la curia vaticana è talmente marcia da farle correre il rischio di perdere la fede? È la vita. La curia vaticana può commissionare un delitto, secondo lei? Ma non chiede... però non usi l'espressione la curia, però in questo caso ci sono persone all'interno che non mi meraviglierebbe per niente se lo facessero. Anche ammazzare qualcuno? Sono uomini con interessi diversi dalla ricerca della santità e dall'apostolato e dall'evangelizzazione. Dove c'è il bene c'è sempre il male, non lo dimentichi mai. Questa è una lezione fondamentale per una persona della sua età. Dove c'è il bene c'è il male, dove c'è molto bene c'è molto male. La chiesa ha duemila anni e ha uno scopo, occuparsi del bene. Se lei fosse il male, non cercherebbe di mettere lo zampino lì dentro? È ovvio quindi che lì dentro si perpetrano cose che non si dovrebbero neanche immaginare. Grazie. Grazie.